Questi panni qua vintaggiano il croppo pieno e poi dopo il livello si alza Vedi quello che sto facendo Fabio? Con il rettino stai prendendo tutte queste bacche Professore com'è che si chiamano queste palline? Sono bacche del Gingo Biloga Femmine Se fossero maschi farebbero i bacchi Favrebbero qualcosa altro Se sono bacche sono femmine Magari non togliere il limo perché lì serve anche per quando vanno in letardo Prendi solo la roba che galleggia Poi io la vado a buttare via Mi raccomando nel cassonetto Sì sì certo Anche qui voi volontari vi state occupando di questa Chiamiamola manutenzione Sì Altrimenti queste bacche causerebbero un intasamento E un innalzamento dell'acqua È già avvenuto E noi ogni tanto La rete lì serve per non far andare i pesci nel tombino Anche altri animali Le tartarughe in particolare Perché loro utilizzano quella specie di piccola fossa che c'è Quindi gli amici di Freud Anzi gli amici di Freud Sono pronti Sono sempre operativi in questo laghetto Sì sì Tutti i giorni costantemente per pulizia Per dar da mangiare ai pesci e le tartarughe Sì Anche per controllare la loro salute Vediamo qui due tartarughe La numero 4 termine E la numero 1 macchio Le altre impaurite Ci sono nascoste Ci sono una alla sotto La numero 0 Quella si chiama Aurora Bellissimo questo nome Sì sì la sto riprendendo Io dovevo essere un'altra che stava giugattina Giusto o no? Certo Certi commenti meglio non... Lì c'è la bellissima numero 1 Che è la E insieme al numero 4 Al numero 4 macchio Che è un altro bellissimo Giusto facendo un primo piano Nero E perchè ha perduto un po' di melanoma Vagli un po' a vedere quella coppia E' molto bene Che è un'altra E' molto più 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 Allora Gianni vedo che ti stai appassionando ai lavori di manutenzione di questo laghetto. Ti stai appassionando a questo laghetto Gianni, questo qua è più basso secondo me, è più alto lo scalino sotto, però è più basso, guarda così, per me è più basso qua che là, per me, devi stare solo tanto a qualche rodino lì, ecco però poi il problema è che qua non si è montato. Facciamo vedere tutto quello che è stato raccolto, va bene, dal laghetto di Corso 4 novembre un saluto dagli amici di Freud, Gianni Senetta il professore, alla prossima, i terribili vecchietti, alla prossima, ciao a tutti.